E' proprio il caso di dire giallo curcuma, perché nei mesi scorsi è scoppiato un allarme su alcuni integratori a base di curcuma, forse è un giallo un po' rientrato. Allora che cosa è successo? Oggi faremo un po' di chiarezza su questa spezia così tanto utilizzata che va tanto di moda con il dottor Stefano Gervasi che è tornato a trovarci, medico, lo sapete, un esperto proprio in integrazione. Allora che cosa è successo esattamente alcuni mesi fa, dottor Gervasi? Allora, maggio del 2019 c'è una segnalazione da parte del Ministero della Salute che in Italia, in alcuni stati membri della comunità europea, alcune persone hanno sofferto di epatite con l'estatica acuta, non contagiosa e non titipo virale. E si è visto che era in contemporanea l'assunzione di alcuni integratori a base di curcumina e solo su un paziente di polvere di curcuma che si è comprata tranquillamente nel supermercato. Quindi il Ministero della Salute ha immediatamente attivato la commissione d'inchiesta e si è verificato dopo alcuni mesi che non erano stati coinvolti gli integratori di curcuma ma era il discorso fai da te purtroppo. Cioè se era una suscettibilità individuale del paziente, già c'erano delle patologie preesistenti nei pazienti, patologie epatobiliari e poi concomitante uso di farmaci. Allora, questo per cui è un allarme comunque rientrato. È un allarme rientrato. Il Ministero ha detto che poi quando si fa un discorso di integratori a base di curcumina le indusse devono specificare, e quella è la cosa fondamentale perché si parla di integratori, integra uno stile di vita quotidiano, non va a sostituire la nutrizione, bisogna stabilire quali sono le controindicazioni e gli effetti collagiali. E adesso ne parleremo proprio di questo. Allora, iniziamo però con le notizie positive. Allora, quali sono le proprietà della curcuma? Perché parlano di una spezia, di una radice miracolosa quasi. È un'erba, è un'erba perenne. India e Pakistan sono la zona di origine. La radice essiccata e macinata contiene questo principio attivo straordinario che è la curcumina, che dà e fornisce il colore, il sapore e gli estremi benefici. Ecco, stiamo leggendo. Quali sono i benefici? L'antinfiammatoria, antiartritica, antiartrosica, epatoprotettiva, protezione cardiovascolare, protezione antidiabetica, patologie neurodegenerative, antinvecchiamento, patologie cutanee importanti come la psoriasi, patologie autoimmuni. Allora, tante persone soffrono, tanti nostri telespettatori soffrono di artrosi. Allora, lei ha detto bene, serve per curare l'artrosi e anche l'artrite? Esattamente sì. C'è una differenza abissale tra artrosi e artrite. Serve come, dal punto di vista di terapia integrata, sempre come terapia integrata, mai come terapia alternativa, quindi associata al farmaco, perché ci dà un'azione antinfiammatoria. Quando noi abbiamo un processo artritico, artrosico, abbiamo delle alterazioni a livello della cartilagine sinoviale, dell'osso e della membrana sinoviale. La cartilagine sinoviale va ad una praticamente erosione. Quindi l'erosione crea uno stato, uno stress ossidativo, radicali liberi, enzimi infiammatori, citochine infiammatorie, che sono i messaggeri dell'infiammazione. La curcumina agisce regolando il processo degli enzimi infiammatori, quindi inibendo le metalloproteasi, blocca lo stress ossidativo, inibisce le citochine infiammatorie, l'interlochina 1, l'interlochina 6, l'interlochina 8, il tumore necrosi factor alfa. Quindi tutti questi vanno a regolarizzare attraverso l'assunzione di curcumina. Basta portarla a tavola. Io uso la curcuma che troviamo al supermercato e ovviamente la metto sulla carne, sulle verdure. Basta questo e sono tranquilla per avere la mia dose necessaria di curcumina. Sei una grande cuoca, ma no. Assolutamente no. Mi piace fare le cose con la curcuma, questo è vero. Allora, faccio un esempio. Questo è la curcuma, la spezia che noi possiamo comprare tranquillamente al supermercato. All'interno c'è la curcumina? C'è la curcumina. Allora, la curcuma è un rizoma, la radice di quest'erba, e rappresenta il 60-70% proteine, 2-7% abbiamo fibre e sali minerali, 3-7% oli essenziali, 7-8% proteine, il 60-70% sono gli zuccheri, 1,5% curcumina. Quindi chi dice, anche sui social, questi famosi miele con la curcumina, il latte con la curcumina, ok, andiamo sempre avanti così, su questi 30 grammi, se io la apro, la curcumina, cioè su questo barattolo, di 30 grammi, tecnicamente la curcumina presente è questa. Cioè ci dovremmo mangiare questo barattolone al giorno? Stare al barattolone al giorno, che attenzione, questo significa 150 milligrammi, ma 150 milligrammi di curcumina vengono inattivati così, proprio come la spezia, vengono inattivati dal fegato perché provoca un metabolismo rapido e una escrezione rapida in 20 minuti. Quindi non riusciamo ad ottenere nessun beneficio attraverso l'assunzione. Quindi solamente come spezia per dare sapore, ma non come proprietà curative. Ecco perché sono nati tutti gli integratori, adesso ne parleremo degli integratori, però si stanno scatenando i nostri spettatori come era prevedibile, perché insomma la curcuma, l'abbiamo detto, va tanto di moda. Allora, ho sentito, Giulio Daviterbo ci scrive, ho sentito dire che per sfruttare i benefici della curcuma dobbiamo mangiarla con il pepe nero. È vero, anche io lo faccio, perché l'avevo letto, ma è vero, che insieme alla curcuma bisogna, per rendere disponibile bisogna metterci il pepe. Allora, il pepe nero insieme ad altri tipi di veicolanti aumenta la disponibilità della curcumina. sono usati il pepe nero, la quercitina, i liposomi, i fitosomi, le nanoparticelle, le tecniche di solubilizzazione come per esempio gli emulsionanti e tutti questi aumentano la biodisponibilità, perché ha uno scarsa assorbimento la curcumina, come abbiamo detto, è un rapido metabolismo. Ma, però, se noi andiamo a utilizzare in cucina il pepe nero, massima attenzione, perché? Perché bisogna capire anche quel soggetto che va a cucinare con il pepe nero se sta prendendo farmaci. Il pepe nero ha un'alterazione del metabolismo degli enzimi epatici, quindi può incrementare gli effetti collaterali di alcune classi di farmaci, antipertensivi, antiretrovirali, antiaritmici, quindi va attentamente vagliata la terapia e anche l'utilizzo del consiglio. possiamo dire, non è. Da un punto di vista di integratore ha un senso. Quando lo vado a utilizzare in cucina, dove io abbondo, posso creare un danno. Allora, fate attenzione, mi raccomando. Parliamo di integrazione a questo punto. C'è un mondo. C'è un mondo. Quando uno va in farmacia e chiede un integratore a base di curcuma, davvero, c'è una scelta quasi imbarazzante. Come facciamo a scegliere l'integratore che più fa per noi in base alle nostre esigenze? Allora, per quanto riguarda, io parlo da medico e mi rivolgo ai medici e mi rivolgo a tutti, a te, alle persone che sono a casa e in studio. Quando si va a prescrivere un integratore di curcumina come un integratore, bisogna sapere se è utile, necessario, sicuro ed efficace è l'interazione con i farmaci. Purtroppo, questo qui è ancora un mondo che in Italia non ci siamo. Perché è un mondo che attira, è un mondo che fa purtroppo permettimi, guadagno. Quindi, io devo far diventare le persone, il paziente, testa e pensanti. Perché testa e pensanti può decidere dal medico. Che cosa dobbiamo leggere? Diamo delle indicazioni prai. Cosa deve leggere il nostro telespettatore in questo momento? Mai fa da te, mai fa da te e chiedere al farmacista, chiedere al medico, chiedere all'erborista, al parafarmacista tutte le informazioni necessarie per quell'integratore e onestamente quello che io faccio con i miei pazienti, perché lo metto a disposizione, devono chiedere i certificati di qualità. Certo. Soprattutto sull'integrazione questo è assolutamente perché poi succede quello che è successo qualche mese fa, per fortuna un allarme è rientrato. Come dobbiamo assumere questo integratore? A stomaco vuoto, a stomaco pieno? Allora, qui ci sono vari tipi di integratori. Le integratori in compresse e le integratori in capsule vanno assunti dopo o durante i pasti. Per durante o dopo i pasti con pasti ricchi di proteine animali o proteine vegetali, olio extravergine di oliva, olio di semi di mais, di girasole. Quando parlo di proteine vegetali, intendo legumi, devono essere associati all'olio extravergine di oliva. All'olio perché? Perché durante la cottura la proteina vegetale, se prendo dei fagioli, si dimezza il quantitativo proteico. Quindi non ce la fa a permettere un'assimilazione dell'integratore. Quindi per forza cucinarlo a crudo poi a fine cottura condirlo con dell'olio extravergine di oliva. Qui abbiamo le losanghe orosolubili che sono logicamente più... Esattamente sì. Questa forma qui. Esattamente. sempre in farmacia. Tutto quello che noi vediamo qui è quello che si riscontra in farmacia, parafarmacia e bolisteria. Nulla di questo qui è su internet. Questa è una cosa che proprio io con il cuore in mano ha tensione quando si compra su internet. Il veicolo della farmacia perché poi quando si vanno a prendere questi integratori noi li portiamo nelle farmacie senza glutine, senza lattosio, senza rame artificiali. sono anche molto personalizzate diciamo. Esattamente sì. Voglio dire anche la medicina integrata è molto personalizzata. Stanno arrivando davvero tante domande e tanti messaggi. Tiziana da Polignano a Mare che bello. Ciao Monica prendo sempre la curcuma sotto forma di tisana. Funziona lo stesso? È vero anche le tisane mi ero dimenticata. Funzionano le tisane? Tiziana è un bel nome però bisogna dirgli che non funziona nulla. No, mi dispiace. Quindi esattamente la tisana di curcuma quindi la curcumina non resiste al calore. Quindi già abbiamo una scarsa assimilazione se lo prendo con gli alimenti o con la spezia. In cottura in tisana non ottengo nulla. Mamma mia allora Tiziana mi raccomando magari sì sicuramente una bevanda calda ha una bevanda calda ma come principio benefico come se io lo voglio ottenere un'azione antinfiammatoria epatoprotettiva protezione cardiovascolare ricordiamoci che la curcumina agisce molto bene sulla riduzione dell'ossidazione del colesterolo cattivo mi riduce l'aggregazione piastrinica a un'azione importante endoteliale soprattutto nel cuore delle donne quindi bisogna utilizzarla attraverso gli integratori. Chi? Le controindicazioni? Le controindicazioni allora sono calcolosi biliare calcoli della colicistia e delle vie biliari principali flocosi delle vie biliari gravissime insufficienze epatiche e lontano gli integratori questo sempre tre ore quattro ore da acido acido il salicilico globitoprelle anticoagulanti di vecchia e nuova generazione antinfiammatori e antieparinici questo è importante parlatene sempre con il medico oppure con il farmacista esperto di integrazione grazie al dottor Stefano Gervasi grazie a tutti